Ed ora è con noi la leggendaria, meglio di così non si può dire, Tina Turner! Le sto dicendo che conosce l'amore italiano perché Tina è venuta molte volte in Italia, è uscito un suo album che si intitola Simply the Best, semplicemente il migliore, e che contiene canzoni, famosi hits, grandi canzoni, grandi successi di Tina Turner, ma anche canzoni nuove. Ma qual è secondo Tina Turner l'uomo migliore? Cioè the best, perché simply the best è una canzone che lei dedica a un uomo. I said in Italian, now I said in English too. According to you, what are the qualities a man is supposed to have to be considered the best? Ok, I think, considerate all the men, to be considerate of the woman, the female, a gentleman. Deve essere un gentleman, kind and generous, gentile e generoso, good looking, bello anche, successful. Pieno di successo, quante cose vuole Tina Turner! It can be an Italian gentleman! Insomma, non si accontenta di poco. Che cos'è la migliore parte, qual è la migliore parte di Tina Turner? What is the best part of you? la sua salute è vero Tina Turner ci presenta una canzone meravigliosa grande come solo lei è grande way of the world God bless you always Tina Turner thank you thank you for coming ciao meravigliosa che dire di più unica veramente